salve a tutti francesco fusillo per le guide di sodi linux questa video guida sarà centrata su come si accede al bios utilizzando un pc questo qui è un hp come vedete c'è windows aperto quando si accende la macchina parte windows e io voglio accedere al bios come tanti di voi per reinstallare il mio sistema operativo e quindi dare le priorità di boot che a fanno avviare la macchina da chiavetta usb o da dvd togliere i secure boot insomma fare quelle operazioni che mi interessa fare per fare questo ci sono dei tasti di funzione il bios è quel programma che gestisce la macchina quel piccolo sistema operativo che gestisce la macchina al momento della partenza noi non ce ne accorgiamo ma la macchina esegue una serie di funzioni sa che giorno è sa che data è sa dove far partire il sistema operativo gestisce tutta una serie di operazioni che riguardano in particolare l'hardware quindi gestire il bios è molto importante si può entrare da windows e questa è un altro sarà oggetto di un'altra video lezione in questa noi vedremo come con i tasti di funzione f che sono la in alto nella tastiera e spesso si avviano si si possono abilitare schiacciando il tasto fn in basso alla tastiera perché sono due comandi sullo stesso tasto allora bisogna schiacciare fn f1 fn f2 e così via oppure se non c'è questa complicazione basta schiacciare i tasti di funzione noi vedremo come come si fa allora ogni pc purtroppo e per la vostra sfortuna ai suoi tasti io vi indico due siti dove potete trovare quasi tutti i tasti di funzione ecco come vedete questo sito è desertcrystal.com slash bootcase e un altro è boot-case.org qui di lato vedete l'elenco delle macchine voi cliccate ad esempio asus e vedete il tipo di asus e cosa dovete fare in genere si assomigliano tutti gli asus non so vediamo hp ecco qui vediamo alcuni hp ibm intel e così via io di solito uso questo ecco questa macchina questo pc che avete di fronte che vedete è un pc hp nuovissimo un i7 e vado a vedere perché non me lo ricordo prima di riavviare la macchina farò vedere che parte ecco quindi per accedere al bios vedete dovrò usare f10 f10 va non va usato a macchina accesa devo spegnere la macchina avviare la macchina e immediatamente schiacciare f10 a quel punto la macchina partirà col bios vedete ho anche più scelte posso già immediatamente cambiare il buton midu schiacciando f9 però il bios è necessario perché non basta far avviare la macchina dal device che mi interessa quindi chiavetta o dvd per essere precisi bisogna dire che alcune case produttrici di macchine come sony lenovo hanno dei tasti alcuni modelli hanno dei tastini specifici per avviare la macchina dal bios lenovo ha un buchetto si infila una spillo e una spilla una forcina al momento dell'avvio non tutti lenovo è quindi se non trovate non riuscite ad entrare nel bios né così né da windows e andate a vedere su google il vostro pc e troverete sicuramente la strada per entrare ma 90 su 100 si parte con i tasti di funzione in questo caso è f10 quindi io non faccio altro che spegnere chiudere le schede spegnere pc e schiacciare arresta sistema e schiacciare f10 e vedrete che immediatamente si apre non il sistema operativo chiamo che si spenga ma si apre si apre il bios adesso avvio di nuovo la macchina e schiaccio f10 vedete in basso a sinistra c'è scritto f10 ecco questo è il bios di questo hp i7 365 serie al quale io a sto punto posso andare a fare tutti i cambiamenti che mi interessa qua avete la lingua le boot option cioè il boot come voglio far partire il boot quindi l'abilitazione del boot da usb le priorità di boot e quant'altro non stiamo a parlare del boot adesso parliamo di come si entra nel boot adesso io esco e vedrete che la macchina parte senza nessun problema come era prima ecco fatto ripartire la macchina giusto per dire che gli interventi sul bios se non si fanno pasticci non cambiano niente se io modifico il boot della macchina e lo metto con priorità da usb se non c'è l'usb ripartirà dal disco fisso come era prima quindi o la ecco che ritorno al mio windows anche sia fatto delle modifiche sul pc però se infilo dentro se infilo la chiavetta e gli dico parti da chiavetta nella priorità di boot lui partirà da lì quindi provate ad usare i tasti di funzione sono molto utili andate a cercare il vostro tasto di funzione così conoscerete anche come gestire e maneggiare il vostro il vostro pc buona sperimentazione per le guide di fissori linux accesso alla macchina con i tasti di funzione accesso al bios con i tasti di funzione